Siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta. E' per un culo questa gente qua. Signori, eccoli qua, eccolo qua, questo è il nuovo, questo è il nuovo. Dio mio, sentite che cosa dico, si presentano a voi, sono siciliani che non sono scappati dalla Sicilia, non se ne sono andati. Vogliono rimanere qui e far andare via dalla Sicilia tutti quegli altri che vanno andare fuori. Noi rimaniamo qui. Buonasera a tutti, io sono candidata al Senato, mi chiamo Ornella Bertorotta, gestisco un'azienda familiare che ha 60 anni. E far andare via dalla Sicilia tutti quegli altri che vanno andare fuori. Noi rimaniamo qui. Buonasera a tutti, io sono... Ho conosciuto delle persone, prima sono rimasta a guardare, volevo capire cosa stava succedendo. Alla fine ci sono stata costretta a spetarmi, fare che è sotto gli occhi di tutti il fatto che ci sono persone che dormono sotto i ponti, agli archi della marina, ci sono le file nelle menze dei poveri. Non è possibile, io non riesco ad accettare una società così. Non ho gran che da dirvi, io farò del mio meglio, io lavoro le mie 10-12 ore al giorno e lo stesso farò se sarò al Senato. Poi si imparerà, non è una cosa difficile, nel senso che con l'impegno e la volontà e la convinzione degli intenti si riesce a cambiare il mondo. Però dobbiamo essere in tanti, dovete darti una mano. Invece di fare venire nella nostra bella Sicilia i turisti, volevano fare venire con i quattro più grandi inceneritori della Sicilia l'immondizia del resto d'Italia e in particolare della Campania. Questo avevano progettato. Noi insieme ai cittadini li abbiamo battuti, li abbiamo sconfitti con l'iritto, con i ricorsi, con le aule giudiziarie. E guarda che ci sono il nostro cuore, non ce l'hanno fatta. Sapete che cosa hanno inventato adesso per colpirmi? Cos'è che li hanno derrumbato? L'ultima rapina che abbiamo fatto è quella del diritto di difesa. Le battaglie che abbiamo fatto nel 2007 contro gli inceneritori, quelle che abbiamo fatto con i comitati contro i ricassificatori di Augusto noi adesso non siamo più in grado di farle perché nel 2007 abbiamo pagato circa 300 euro di spese, di diritti, di tasse per il giudizio. Adesso per fare un giudizio come quello ci vogliono 54 mila euro per i due gradi di giudizio solo di tasse. Non vogliono che voi vi difendiate. Voi questo ancora non lo sapete perché non ve l'hanno detto. Non vi hanno tolto solo la sanità, l'istruzione e il lavoro. Vi hanno tolto anche la capacità di difendervi. Questo purtroppo lo scoprite quando vi arrivano degli atti giudiziari. E pensate che è normale. Non ho provato a cercare di difendervi. Molta gente non è più in grado di difendersi. Noi vogliamo un po' dire che Italia, ma quando le persone cercano di impugnare gli atti e scoprono quanto devono pagare di tasse solo per difendersi, si restano sconvolte, sconvolte. Beppe diceva una cosa importantissima, il problema delle banche in Italia. Poi dovete sapere una cosa, questo è uno dei cuori del problema del nostro paese, perché la principale attività economica italiana, tutti noi vediamo sia la Fiat o forse un altro coindustriale, no, no, astronomiche. E in queste cifre astronomiche sono coinvolte le banche, proprio le banche italiane, i banchieri, i finanzieri che si sono messi a casa. In questo momento, queste cose le abbiamo apprese, non perché ce le dice Beppe Grito, non perché le dico io, perché le dice un'altra banca. La Banca d'Italia ha fatto un rapporto, ha detto che in giro di affari, il presunto del riciclaggio ammonte a 450 miliardi di euro. Sapete che cosa è successo nel nostro paese dopo questo rapporto? Assolutamente niente. In un paese civile si sarebbe messo il ministro dell'interno, il ministro della giustizia. Invece sapete che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di abolire la via, l'agenzia investigativa che aveva creato Giovanni Falcone, uno dei sogni di Giovanni Falcone per combattere la mafia e che aveva lo scopo di inseguire i capitani rupiosi in un momento come questo, viene a abolire. Queste sono le persone che ci dobbiamo. Noi, voi, non abbiamo più tempo. Dobbiamo combattere tutti insieme dai cittadini. Voi cittadini dovete andare con noi nelle istituzioni per immettere la parola fine a tutto questo. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia Grillo, sono un medico di Catania. Sono un attivista del Movimento del 2006 e vi assicuro che ho una grandissima fatica a partecipare. Anche io con il tornello lavoro 10 ore al giorno perché ho un socio al 60% che mi spiega il sangue che è lo Stato. Per pagare ogni 100 euro che guadagno a 60-65 euro gli devo dare allo Stato. Ma ragazzi, guardate, non è questo il problema. Io le tasse le pagherei ben volentieri. Ma se avessi servizi pubblici? Ma di cosa stiamo parlando? Ci dicono voi non avete un programma. Ma il programma è l'attuazione della Costituzione e i servizi pubblici. Io voglio i trasporti pubblici, io viaggio in Catania a Messina tutti i giorni, devo prendere la macchina, devo spendere 60 euro ogni giorno di macchina. Non è normale. Non c'è un... Mi chiamo Maria Cristina Sainia, sono di Messina e sono un'accompagnatrice turistica. In questo momento però sto facendo un master in Spagna che mi ha portato via per qualche mese e oggi sono qui. Connessione di voli è spettacolare, davvero. Questo sì che dovremmo partire, insomma, dalle basi, ecco, da poter collegare il resto del mondo alla Sicilia. E credo che, insomma, le bellezze ne abbiamo volte di più della Spagna. Io vivo in questo momento a Cordoba, che fa gli stessi abilanzi della mia città, ma è invasato al turismo, nonostante non abbia il clima di Messina. Insomma, io vorrei parlare di turno accessibile, che ho scoperto già da Barcellona in Spagna. Loro fanno una copia di un bene, ma non possono toccare in un vedetto. Cioè, io vorrei parlare di queste cose. Oggi abbiamo un traduttore della lingua di sé e, cioè, io sfido chiunque vale dei politici che abbiano questa sensibilità per coinvolgere anche le persone che in questo momento magari non ci stare qui, non ci fosse un interesse, non ci fosse un interesse. Allora, io ti credo, davvero. Io sono andata via dalla Sicilia e devo dire che l'ho amata grazie ai turisti, l'ho amata grazie agli altri. Adesso, per cercare il diritto di modo, di che cosa stiamo parlando, vi prego soltanto di leggere un articolo che sia quello che potete. Ognuno di voi veramente, vi dovete attivare, perché noi non ce ne dobbiamo veramente andare. Io ho incontrato adesso il mio ex perifoglio di liceo che vive in Spagna. era uno degli interi della classe che fa tutto il lingue perfettamente e lavora in Spagna. E quanti ne ho di compagni così che vivono fuori da Italia? Perché questo? Semplicemente perché la politica non si occupa di turismo, non si occupa di noi. Semplicemente perché ci vuole fare andare. Siamo loro la vera che sosta. Se ci riusciamo, bene, loro hanno piazza a Pulizio, insomma, fanno quello che vogliono. Insomma, attivatevi solo questo. Buonasera a tutti, mi chiamo Don Masukuro, ho 39 anni, lavoro all'Stino Eletronici, sono un dottore in fisica. Conoscete la realtà della microelettronica qui a Catania? È una realtà sana, è una realtà industriale che ha creato ricchezza del territorio facendo profitto, l'azienda ha fatto profitto, ma ha anche arricchito il territorio, perché ha adottato una politica giusta, una politica sostenibile che rispessa l'ambiente, rispessa il territorio in cui opera e rappresenta a fine anche un presidio sociale per la comunità in cui opera. E allora noi cosa dobbiamo fare? Che responsabilità abbiamo nel Movimento 5 Stelle? ...e poi accanto delle culture biologiche. Ecco, questa coesistenza noi dobbiamo favorire nel nostro Paese perché non siamo ultimi a nessuno in tema di civiltà. Quindi noi oggi portiamo al Parlamento persone per bene perché fino ad oggi non ci hanno saputo rappresentare. Abbiamo portato purtroppo il peggio. Viva il Movimento! Viva Catania! Sono Angelo Ricorda e sono un insegnante dello scientifico di Acireale. Fino a due anni e mezzo fa io prevo che cosa fosse un banchetto, un gazzetto. Me l'hanno insegnato a Paternone, i ragazzi che condividono il gazzetto del comprensorio degli Aci insieme a Paternone. Io mi occupo di scuola e rispetto a quei cartelloni che noi abbiamo visto anche di recente, cioè solo noi li possiamo guardare negli occhi. Io gli alunni li guardo negli occhi e non potevo stare più fermo dopo tanto tempo e non sentirmi responsabile del fatto che nessuno in Italia a parte il Movimento 5 Stelle si stesse assolutamente allontanando da quelli che sono i bisogni di ogni singolo individuo cioè la prospettiva del futuro. Con altri 5 del Movimento noi stiamo preparando e abbiamo ormai quasi ultimato un disegno di legge che è fenomenale dal punto di vista proprio della rivoluzione culturale. Quello di esportare stavolta in maniera virtuosa quello che noi prima esportavamo in maniera invece dannosa cioè educare all'antimafia con i soldi sottratti confiscati alla mafia. Un disegno che noi cittadina eletta all'Ars portavoce e che naturalmente così come Beppe Grillo ci ha aiutato con quella traversata a nuoto adesso noi speriamo appunto di varare la legalità ma proprio con la L maiuscola in tutta Italia. Buongiorno 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 Mi chiamo Franco Campanella sono di Panella e mi abbraccio voglio ringraziare Beppe Grillo perché? Perché ha risvegliato noi, noi tutti noi la speranza la speranza che avevamo perso io cresciuto in una famiglia mio padre mi ha fatto lavorare mi ha fatto studiare e la prospettiva che avevo era di fare lo stesso con i miei figli mi sto facendo studiare e fino a qualche tempo fa credevo che dovessero andare fuori a lavorare hanno rubato il futuro dei nostri figli ci hanno provato hanno provato a rubare il futuro dei nostri figli noi oggi tutti noi oggi qui in questa piazza stiamo dicendo in maniera forte e chiara che non ci sono riusciti dipende da noi se vediamo delle cose gliele diciamo perché? perché loro come noi sono dei cittadini nessuno di loro ha intenzione di fare nella politica un lavoro perché la politica non è il lavoro la politica o è missione o è ladrocini buonasera a tutti io mi chiamo Maria Marco bene continuano a farci pagare sempre più tasse per risolvere la crisi siamo ai primi posti in Europa per pressione fiscale ma per quanto riguarda i servizi siamo in fondo alla classifica l'unico settore che non è intaccato minimamente dalla crisi dai tagli anzi dove le risorse vengono aumentate è quello della difesa militare questo nonostante una vicenda indagine ha dimostrato che la pace e la sicurezza di un paese non dipendono dalla sicurezza ma da altri fattori come l'equa distribuzione della ricchezza un basso livello di corruzione la difesa dei diritti altrui la libera circolazione delle informazioni e un nuovo livello di istruzione e invece nel nostro paese l'istruzione è uno dei settori più colpiti dai tagli quelli operati dalla riforma a Genmini hanno superato gli 8 miliardi di euro e hanno riguardato il funzionamento degli istituti e il personale ora quello che noi proponiamo è la riduzione delle spese militari l'abolizione del finanziamento pubblico alle scuole primarie in maniera di assicurare risorse per attività di laboratorio percorsi individualizzati a favore dell'integrazione degli alunni che hanno bisogni speciali il tempo pieno l'innovazione tecnologica la formazione e servizio degli insegnanti la riduzione del precariato quindi l'unica arma sulla quale vale davvero la pena investire è sicuramente l'istruzione brava buona sera sul palco l'istruzione è importantissima l'istruzione forma i ricercatori i ricercatori sono altrettanto importanti perché fanno studi ad esempio sull'ambiente e l'ambiente l'ha detto Giulia la nostra capolista poco anzi è importantissima tutela e l'ambiente perché la tutela e l'ambiente dopodiché noi potremo stare meglio la nostra salute sarà migliore e potremo anche avere un lavoro su questo ambiente appunto i rifiuti sono una risorsa e questa è verità noi stiamo proponendo un modello diverso in cui nessuno deve essere lasciato indietro perché siamo tutti necessari siamo tutti indispensabili ogni anello della catena questa è l'Italia siamo una grande famiglia grazie a tutti buonasera mi chiamo Filippo D'Amico ho 35 anni e faccio l'agente di commercio sono candidato alla Camera dei Deputati vi siete mai chiesti che cosa è un rifiuto lo dice la parola stessa rifiuto non lo voglio più il rifiuto quindi non lo voglio più infatti i rifiuti esistono perché noi buttiamo qualcosa ma se buttiamo qualcosa vuol dire che quella cosa non ci serve e allora mi chiedo perché teniamo in casa cose che non ci servono forse perché i prodotti che vengono costruiti non sono pensati in maniera nazionale c'è una parte di quello che compriamo che non serve veramente e allora la nostra proposta una delle tante è di tassare o vietare gli imballaggi usa e getta gli imballaggi non necessari e non riutilizzabili pensiamo poi alle discariche ognuno di noi viene la casa pulita raccoglie la spazzatura la getta nel cassonetto passa all'autocompattatore svuote il cassonetto e via tutto nella discarica ma se noi abbiamo il concetto di casa alla nostra nazione se noi pensiamo all'Italia a una grande casa ma che senso ha tutto questo è come se pulendo la nostra abitazione nascondessimo la monnezza sotto il tappeto questo è il concetto di discarica e noi non ne vogliamo più non vogliamo più nemmeno gli inceneritori perché bisogna acquisire la consapevolezza che bruciando la natura in tantissime temperature materiali come alluminio vetro questi vanno a depositarsi sugli alimenti che poi noi diamo da mangiare ai nostri figli e poi ci chiediamo perché come diceva Giulia prima vengono i tumori invece dei inceneritori e delle discariche il Movimento 5 Stelle propone Sicilia per esempio che ha una locazione agricola i centri di compostaggio all'interno dei quali si può trasformare l'umido la frazione organica della spazzatura in compost che è un concime di ottima qualità insomma noi proponiamo e vi proponiamo di cancellare dal vocabolario la parola rifiuto che è una spesa e trasformarla in risorsa che è un profitto grazie signori ora vi faccio vi presento l'ultima cosa abbiate ancora qualche minuto di pazienza sono quelli che sono entrati dentro la regione che sono stati eletti quei 15 camicazzi che sono dentro che stanno facendo delle cose straordinarie che stanno facendo la battaglia sul vosso in una maniera straordinaria ve la raccontano voi buonasera a tutti io sono Francesco Cappello quindi voi sapete almeno 15 o 10 giorni fa abbiamo approvato all'assemblea regionale siciliana una mozione contro il Muos con la quale il parlamento siciliano ha detto no agli americani nonostante questo impegno il presidente Procesta ci ha preso in giro ha preso in giro tutti i siciliani e ieri noi 15 abbiamo detto basta gli abbiamo detto votatevi voi le vostre cose perché noi non ci stiamo noi siamo siciliani e vogliamo risposte concrete quelle che ancora non sono arrivate e così ce ne siamo andati quando lo si può fare niente con gli americani perché ci dicono solo agli americani che ci dicono gli americani che ci dicono ma sono i loro interessi che lo vengono a dire ai cittadini e non li prendono in giro con le passerelle politiche ragazzi il nostro ruolo è prima di tutto coinvolgervi nella politica siciliana quindi abbiamo creato uno strumento che sono le commissioni parallele ancora diciamo i moduli non solo abbiamo presentato un disegno di legge ancora è un primo passo perché abbiamo imposto almeno speriamo che ce lo votino di adeguare i costi della politica i stipendi dei pari parlamentari al resto degli stipendi regionali nel resto d'Italia è un giorno il grosso della battaglia l'ha fatto in consiglio di presidenza l'art ma lo potete stare certi noi l'abbiamo già fatto lo faremo fare anche gli altri se vedete alle vostre spalle ci sono dei copie del programma che ci aiutano ad andare avanti per fare le fotocopie c'è un cartello dove si cercano rappresentanti di lista ora questa volta più che mai cercheranno di ostacolarci i partiti tradizionali e quindi è indispensabile che andiamo a controllare cosa succede nei secchi allora se per cortesia tipo legge potesse dare la disponibilità dal nominativo lì al gazzeppo preposto ci sono dei ragazzi e facciamo in modo che queste votazioni vanno in maniera regolare inizia tutto abbiamo questo trenino da prendere se non lo prendiamo noi non lo so cosa possa succedere perché se toppiamo noi succede qualcosa di strano che non riusciamo a il paese va nella violenza ve lo dico noi riempiamo un luogo che gli altri paesi hanno riempito con gli estremisti signori è un luogo che che noi vorremmo partire nel Parlamento Grazie a tutti. Grazie a tutti.